Una solare analisa actin, non tu mai hai visto così bella, ha questa presentazione che però raccoglie anche il frutto di tanti mesi di lavoro. Io lo so perché non l'hai dedicato a me, com'è andata? Effettivamente, ti chiedo scusa in diretta. È andata bene, assolutamente. È stata una presentazione comunque emozionante sotto tutti i punti di vista, perché non è comunque da tutti poter sedersi lì come società intendo e anche proprio a livello personale. Avere a fianco comunque delle autorità come quelle che sono state presenti in conferenza e quindi insomma raccontare di questo torneo che è una nostra creatura, una creatura comunque del Real Canavese, che è un ambiente dal quale io arrivo e cui sono molto legata, sono altrettanto naturalmente legata anche a Orizzonti, che l'ha ereditato e obiettivamente comunque anche grazie alla forza lavoro, quindi veramente a tutti i volontari di Orizzonti, lo ha fatto diventare veramente un torneo di riferimento del territorio, sia dal punto di vista calcistico che appunto dal punto di vista della promozione, come abbiamo detto tantissime volte oggi e questo è un aspetto che abbiamo trattato in conferenza di cui sono molto molto felice. Senti, tu sei un po', hai detto creatura, io posso dire la mamma di questo torneo, perché chi sicuramente non lo sa, ma io che lo so molto bene, tu t'anni ti dedichi con impegno a questo torneo, avere Torino, Juventus, Verona, adesso anche due squadre internazionali. È un motivo di successo, di orgoglio, ma penso che questo sia un punto di partenza, conoscendoti. Sì, ogni anno è un consolidamento dell'anno precedente e la volontà di fare meglio, ma non necessariamente meglio per strafare, o comunque intanto consolidare quanto è stato fatto e provare a dare un servizio maggiore. Il secondo anno, ovvero l'anno scorso, abbiamo raddoppiato il numero delle squadre e quest'anno abbiamo inserito questa fase di qualificazione. Ci tenevo tra l'altro, perché poi si parla spesso delle sole fasi finali, come è anche abbastanza normale che sia, però insomma le squadre dilettanti che si giocheranno alla qualificazione sono altrettanto importanti a livello dilettantistico sul territorio. Egre Vilbo, Il Piano, Borgaro, Ivrea Banchette, Junior Biellese, Barracuda, Lachivasso, Rivarolese, Sisport, San Mauro, Alicese, Lucento, Olmo, Rosta, Vallelvo e Crescentinese. Insomma, sono davvero, anche nelle loro rispettive categorie, squadre assolutamente di qualità. In fondo, arrivare in via Avogadro 30, avere la regione Piemonte come patrocinio, questo è soprattutto, mi spiace sottolinearlo, ma è un tuo successo perché proprio grazie a te, non solo a te, ma arrivare alla regione Piemonte non era facile. Sì, con questo ringrazio e approfitto per ringraziare anche Massimiliano Mastrorillo. Insomma, ci siamo stati tutti insieme davanti alla dottoressa Salerno, che è la collaboratrice proprio dell'assessore Ferraris, la prima volta. Tra l'altro, l'ho detto all'inizio di conferenza stampa, ho trovato, sia l'assessore naturalmente, ma un po' già lo conoscevo, ma anche tutta la sua segreteria veramente molto, molto disponibile sotto tutti i punti di vista. Per cui, sì, volontà di quest'anno era veramente metterci una cornice importante, come quella del patrocinio della regione. Non ci resta che aspettare? Non ci resta che aspettare. Intanto siamo curiosi di capire quali tra queste 16 squadre direttanti riuscirà ad arrivare alle finali. Quindi il 20 marzo, da parte nostra, degli organizzatori, non essendo coinvolti direttamente, ci sarà veramente voglia e curiosità di capire. E poi, naturalmente, il 2 al 3 aprile, grandi sforzi da parte di tutti, ma grandi soddisfazioni nel vedere comunque otto squadre professionistiche, tra cui due straniere, di cui una tedesca. L'ho detto prima, non è usuale che venga una squadra, perché evidentemente non è facile magari arrivarci. Quindi, insomma, abbiamo anche questa chicca. Siamo tra le poche società direttanti che hanno una società tedesca nel torneo. Non ci resta che lavorare? Quello si fa veramente tutti i giorni e non manca. Fortunatamente non manca.